Ragazzi, oggi vi faccio vedere un effetto incredibile, è l'FK, una versione pocket, i miei amici sono già cos'è l'FK, guardate ragazzi i dandenti, il mazzo va mescolato, ok? Ah, però prima di fare questo, controlla che siano carte regolari, questo è importantissimo, fare i nomi veloci del controllo, che non siano doppia faccia, se ci mettiamo la vita controlla un po' le, si è rotta chiaramente, senza i due giolli, questo è un gioco che si fa con un mazzo regolare, ok? Guardate ragazzi e amici, tutto quanto, mi raccomando, ok? Dopodiché, ok, dopodiché, dopodiché, diamo la metà a metà, più o meno, e mescoliamo, questo perché? Perché voglio che tutto sia mescolato, giusto? Vedete ragazzi, un po' io e un po' lui, perché così, influenziamo anche la persona che abbiamo di fronte, la rendiamo un po' partecipi, giusto? Sì. Benissimo. Carte dorsi regolari, guarda. Tutto a posto. Tutto a posto, giusto? Questo è importantissimo. Poi, chiudiamo il tutto, ora ascoltami benissimo, perché quello che è tutto mescolato, non posso sapere niente, ora ti chiederò una cortesia, tu stesso guarda con i tuoi occhi, ok? Io prendo le carte e le chiudo con elastico, in modo che nessuno... Giusto? Non mi parla, tu sei qua vicinissimo, te ne vedendo. Sì. Altra cosa, dimmi stop quando vuoi tu. Stop. Qui? Sì. O vado avanti? No, lì va bene. Sicuro? Sì, sicuro. Visto bene? Sì, ho visto bene. Ok. Altra cosa importante, tu stesso, scurendo, scuri tu le carte e guarda se ci sono dei punti che uno si ferma per forza a una carta, è stata libera la carta, tu stesso, guarda. Sono tutte carte diverse, giusto? Tutto diverso. Ok. Ora, altra cosa importante, la carta c'è solo tu nella tua mente, io non posso sapere, ti chiammazzo così. Ora mi dovrei, guardami bene, mi dovrei dare un numero da uno a cinquanta e mezzo, tipo, non so, dieci, trentacinque, quaranta, un numero di mezzo, da uno a cinquanta, vai. Vai. Venti cinque. Venti cinque. Tu stessi, togli l'elastico e conta sulla mia mano girando venticinque carte. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, sette, diciotto, ciannove, venti, ventuno, ventidue, ventitré, ferma, ventiquattro, ventiquattro, che carta era la tua? Questa era venticinquesima, giusto? Lei aveva fatto la gira. Tre di quadriga. Vincola qua. Signori e signori, venticinquesima, 3 di quadriga, da un mazzo mescolato. Tu puoi controllare tutto, se c'è trucco, è un gara, elastico. No, non c'è tutto a posto. Cosa puoi dire ai nostri amici di questo effetto? Che sbarutitivo, è una cosa veramente che sono rimasto allibito, perché alla fine ho mescolato io, ho mescolato io, l'abbiamo messo insieme e dopodiché l'ha fatta scorrere. Io ho detto, mi sono, diciamo, segnato mnemonicamente nella mia testa la carta era un mazzo mescolato. Non ci sono punti di segno. La carta la sapevo solo io in testa, quindi alla fine me l'hai chiesta tu che carta è, però tu non la sapevi e neanche io la sapevo, tu no. E dopo ho detto 3 di quadriga ed è scoccata la carta. Io ti ringrazio tantissimo. La venticinquesima che è stata proprio il 3 di quadriga. Grazie papà tantissimo. Quindi sono rimasto veramente... Puoi dire che è un gioco fenomenale? Eh sì, sbigottito proprio.